Da una foto nasce una notizia e così emerge anche una storia. Gianluca Massini Rosati, presidente di Alcor, è salito agli onori della cronaca dopo essere stato ritratto al lavoro con suo figlio di appena cinque mesi. Uno scatto semplice, dietro il quale però si cela una visione diversa. Questo fenomeno mediatico è nato in modo casuale, se vogliamo, e anche paradossale, nel senso che uno crea aziende, fa da lavoro a tantissime persone, si quota in borsa, fa di tutto, e poi alla fine diventa famoso, diciamo così, perché fa semplicemente il papà. Il nostro gruppo, l'età media del nostro gruppo è di 41 anni e durante questa età è normale anche avere dei figli. Io stesso ho avuto un bambino quest'anno che adesso ha cinque mesi. Noi lavoriamo per il 94% del tempo in smart working, ma anche quando magari c'è necessità di venire in ufficio abbiamo creato degli spazi appositamente per loro per poter anche portare, se vogliono, i loro figli in ufficio. Ovviamente non abbiamo creato degli asili aziendali, perché non c'è necessità, siamo sempre i smart working, però quando vengono in ufficio ci hanno bisogno di portare con sé il loro cagnolino, piuttosto che il loro bambino possono farlo tranquillamente, ci sono dei piccoli spazi arredati appositamente per loro e possono anche quindi tenere le loro riunioni senza preoccuparsi di tutto il resto. L'appetibilità dello scoop infatti nasce dalla triste dicotomia che spesso si riscontra tra lavoro e figli. Secondo dati Istat di inizio 2023 infatti l'occupazione in Italia delle donne con figli piccoli è diminuita rispetto al passato ed anche la natalità è diminuita dell'1,7%. In questo contesto il modello Alcor è un esempio di come si possano far conciliare in maniera ottimale impegni primari di vita privata con la dimensione lavorativa. E questo chiaramente ha permesso anche di dare grandi libertà alle persone che lavorano all'interno della nostra organizzazione. Nessuno è chiamato a timbrare il cartellino, tutti siamo chiamati alla produttività, tutti siamo chiamati a rispettare gli obiettivi e le scadenze che ci diamo. E questo di fatto ci ha permesso anche di crescere in maniera importante in pochi anni, andando anche a prendere i cervelli, i campioni di Serie A, quelle persone che veramente fanno le differenze in azienda anche a sceglierceli ovunque si sia. Non abbiamo collaboratori che stanno in Portogallo, in Egitto, in Bulgaria, piuttosto che nel Regno Unito, piuttosto chiaramente anche in tutta l'Italia. Credo che questo sia un altro concetto importante che noi negli ultimi anni ci stiamo completamente perdendo, quindi anche avere la possibilità di riportare o di farci vedere noi genitori che lavoriamo, che risolviamo problemi, che facciamo conference call, che quindi di fatto gestiamo le task di tutti i giorni, possa permettere anche ai nostri figli di capire in fondo che cos'è il lavoro e come poter gestire anche il lavoro in fusione con quella che è la vita privata. Orari flessibili, smart working e piccole attenzioni che, quando necessario, possono far includere figli ed amici a quattro zampe nella vita di ufficio. Una nuova visione che, senza mai mettere in secondo piano gli obiettivi aziendali, rimette al centro dell'attenzione la persona, in tutte le sue sfumature.